Ciao a tutti, oggi vi presento Teo. Teo è un bel micione di 5 anni di età, un coccolone, pelo grigio, bavero bianco, un bel gattone, peserà 5-6 kg, come ho detto 5 anni di età, socievole, gli piace stare con i bambini, gli piace farsi coccolare, ha bisogno di un posto, un bel posto comodo dove stare, una bella casa e sicuramente regalerà affetto a chiunque lo voglia adottare. Ciao a tutti, oggi presentiamo anche Gioia. Gioia è una bella gattina di 2 anni di età, nera con delle macchiette bianche, ha tutte le zampotte bianche, occhi gialli, dei belli occhioni gialli, è pacifica, sta in braccio, si fa grattare, si fa coccolare, vuole stare sul divano semplicemente a riposare e farsi grattare la testa. Bella pesantina, sarà un bel 5 kg di gatto, coda lunga, nera, cerca famiglia, vi aspettiamo qua in Gattile, per le festività magari può trovare casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.